Hillary Clinton, prima donna in corsa per la Casa Bianca. L'ex segretario di Stato vince le primarie democratiche del New Jersey, New Mexico e South Dakota al voto nell'ultimo super martedì, ma aveva già superato la soglia dei 2.383 delegati necessari per ottenere la nomination del partito. Un momento storico, esulta la ex First Lady che ha ricevuto le congratulazioni di Barack Obama. La Clinton intende parlare presto con il rivale del partito, Bernie Sanders, per andare uniti alle presidenziali.